È arrivato! Finalmente! Lei dov'è? Che c'è? Non vuoi esibirla davanti a Stefan? Ho paura che non mi trovi altrettanto affascinante. Ma sei così sexy! Tutto quello che dici è automaticamente affascinante. Temo di aver trovato l'eccezione. Le ho detto di essere un vampiro e non ha avuto reazioni. Piuttosto un totale disinteresse. Cosa c'è? Stefan l'ha tenuta sotto la sua ala fin da bambina. Questo significa che la proteggerà a qualunque costo. Ok. Cosa fai quando vuoi che qualcuno non abbia niente a che fare con i vampiri? Lo so giochi affinché non provi interesse per il genere. Caroline Forbes. Sei un genio. Grazie. Ora, che ne dici se ti mostro qualche altro mio talento? Scusa, biondina. Non è divertente quando non sei davvero tu.